Grazie. Ecco, anche io ringrazio tutti, ringrazio Giorgio. Mi veniva in mente ovviamente tutte le solite cose, quando era meglio gioventù eravamo noi, vabbè, risparmiamo tutte queste pietose vicende. Ringrazio gli organizzatori, soprattutto i due giovani organizzatori, Andrea e Elena, anche perché si sono parcamente esclusi da tutti i volantini e quindi è bene che invece il loro nome si faccia e si ricordi sempre che è nata dall'iniziativa di due ragazzi. E in questi tempi in cui i professori universitari di mestiere si lamentano dell'università soprattutto, ma anche dei loro studenti, e ci sarebbe anche bene ricordare che insomma non sono tutti come i miei studenti, giusto appunto. Chiudo velocemente queste cose e ringrazio ovviamente i colleghi dell'università che mi accolgono, il rettore del collegio, insomma che nonostante fossimo molto discoli ci ha tutti e due voluti presenti qui. Allora nella storia che ha trattato Giorgio, nella storia diciamo degli elementi che ha toccato Giorgio ha citato Lunghi, io da Lunghi vorrei partire ovviamente perché parlare di Ferrara in qualche modo storicamente significa parlare di Lunghi. Quello che vorrei tratteggiare è la storia di questo classicismo tratteggiare, accennare alla storia di questo classicismo, come nasce, come si definisce, come autonomo rispetto all'unica cultura che fino a non molto tempo fa veniva presa in considerazione nel Quattrocento, che ovviamente è quella, mi dice, l'Aurenziano. Pregiudizio molto duro a morire, come vedremo, è che Firenze sia il centro del mondo, è idea ancora diffusissima, presso tutti i colleghi toscani per esempio, che ne sono assolutamente convinti e fanno molta fatica a declinare l'umanesimo nelle sue varie zone, anche se tutti hanno letto Geografia e Storia, se lo dimenticano abbastanza rapidamente. Allora da dove nasce l'idea che Ferrara sia un mondo a parte? Dico cose note all'inizio di questo intervento, nella seconda parte vado a fuoco su un testo, che è, questo testo che vi è stato dato, minaccioso già a vederlo, perché è un egloga volgare, non c'è neanche scritto che cos'è, è la prima egloga volgare boiardesca, cioè la prima delle pastorale, che riprenderanno nell'edizione critica e commentata, che io sto per completare, il loro vecchio titolo. Si sono chiamate per un po' pastorali, per un tragico direi di sguido dell'editrice che non ha visto una correzione. Si chiamano invece pastorale, plurale, settentrionale, immagino appunto che Bembo potrebbe avere un soprassalto, ma è la traduzione in italiano settentrionale di pastoralia, quindi in nessun altro modo si possono intitolare se non pastorale, in plurale. Allora, dicevo, Longhi, una mostra molto famosa, 1933, è un libro famosissimo del 1934, che si intitola Officina Ferrarese. È un libro di grandissimo rilievo, per molte ragioni, di nessuna delle quali ovviamente parlerò, tanto perché segna una tappa nella storia della prosa novecentesca, una prosa eccezionale, di intensità espressiva, altissima, che funziona un po' da correlativo stilistico, mi verrebbe da dire invece che oggettivo, da correlativo stilistico di un'esperienza artistica che era altrettanto eccezionale, quindi una prosa elaborata, manieristica, tesa, fino al parossismo, così com'è l'arte che va a rappresentare. Non è importante solo per quello, perché di questo ci interesserebbe poco, fondamentalmente oggi. È importante per la filologia di Longhi e per l'intreccio Longhi-contini, sul quale si è già avuto modo di riflettere molto, ma ancora, secondo me, si potrebbe pensare. E per quello che ci interessa, per l'idea di eterodossia di questa pittura, ovvero il Tura, il Cossa, Ercole De Roberti, non sono singolarmente dei pazzi, forse lo erano anche, che facevano dei quadri assurdi, fuori da ogni regola. In qualche modo all'interno c'era del metodo in quella pazia, cioè c'era un sistema, ma è un sistema differente. Allora non vi racconto il saggio, perché molti immagini l'abbiano anche letto, e sarebbe sicuramente un saggio da legge. La linea che Longhi propugna è l'opposizione fra, diciamo, grandi spanne, disegno versus colore. Allora il disegno, il tratto inciso, la precisione, l'esattezza fiorentina versus il colore dell'esperienza veneziana, e quello sarà il viatico per la pittura veneziana di cinque secoli, ma non ci siamo ancora. Nel caso di Ferrara, la giusta posizione di masse colorate. Dove avete in mente il Salone dei Mesi a Schifanoia, vedrete disegnarvi alcune immagini molto famose di colore pieno, che sta lì, diciamo, non inciso, non sagomato, ma giusta posto, con la forza che Longhi chiamava la forza materica del colore, là dove il colore si fa materia, si fa prospettiva, si fa struttura. Va bene, affidiamo l'officina ferraresa al suo luminoso destino, perché è stato un libro famoso e fortunatissimo, senza ricadute. Ecco, la cosa che mi ha sempre molto stupito è che ciò che Longhi aveva detto nel 1934 è stato acquisito, non dico al centesimo, non dico esattamente nel 1934, ma è passato alla storia dell'arte, non è stato scritto in vano. Invece queste acquisizioni sono rimaste assolutamente senza riflesso sulla storia letteraria. Quasi che il salone dei mesi di Schifanoia e l'innamoramento di Orlando e di Boiardo fossero figli di due culture diverse. E in ogni caso la cultura letteraria, quello che mi è più stupito, fosse figlia di un dio minore. Cioè nel sistema longhiano della cultura ferrarese, la letteratura non c'entra. Questo stato di cose è stato superato, ovviamente non siamo più lì, siamo più avanti adesso, ma è stato superato tanto tempo dopo. E soprattutto per opera di una persona che Giorgio ha evocato, che è Antonio Tissone Benvenuti, la quale con pazienza, pazienza delle donne passo a passo, ha costruito attorno a Boiardo una rete dentro il quadro, dentro la quale la sua esperienza si colloca. Questo è il punto fondamentale, non un eccezionale poeta che un po' per caso è ferrarese. Apro una parentesi su questo aspetto e spiego cosa intendo. La fine della sfortuna di Boiardo, sapete c'è il famoso saggio di Dionisotti, la sfortuna boiardesca che dovrebbe essere fatta studiare a ogni membro della confraternita degli italianisti, eccetera, eccetera. Dionisotti lo scrive nel 69. Ora, nel 69, 1969, ovviamente, sono già uscite le due edizioni, l'edizione di Mengaldo, delle opere volgariche del 62, ed è già uscito lo studio linguistico che è del 63. Quindi in realtà quella sfortuna aveva già cominciato a finire, come dire. Però i lavori di Mengaldo, i grandissimi lavori di Mengaldo, riguardano un poeta in quanto tale, un fondo che fosse ferrarese e non fosse appunto di Pescasseroli o del Mugello, non gli interessava più di quel tanto. Quindi qualche cosa ancora doveva cambiare. Anche dopo questa accoppiata dei libri di Mengaldo, che il nostro amico Marco Prelorano avrebbe definito micidiale, in effetti un 1, 2, 62, 63, l'edizione delle opere, il studio sulla lingua, e Mengaldo va in cattedra, giovanissimo, e ovviamente a pieno merito. Allora, la definizione, dicevo, di questo ambiente, sul quale l'esperienza di Boiardo si staglia, come eccezionale quanto a qualità, ma certamente non eccezionale quanto a modalità, si deve a un gruppo di persone, qualcosa ho fatto anch'io, ma dicevo, senza gli studi di Antonio Tessoni benvenuti, non arriveremo da nessuna parte. Questo mio intervento, a parte questo cappellino, appunto, introduttivo, abbastanza esornativo, punta a presentarvi un esempio nuovo, ma lo farò alla fine, perché vedo quanto tempo mi rimane, e poi questo andrà a stampa, fra non molto, insomma, quindi lo vedrete. Vorrei invece disegnare un'altra storia, una cosa che i professori non dovrebbero fare mai, cioè come sarebbe andata se, Sì, cioè come sarebbe andata Ferrara se la linea dinastica ferrarese non fosse andata, non si fosse sviluppata così come non la conosciamo? Cioè che rapporto, per rifarmi le cose che diceva ieri Tobia, qual è lo, il professor Toscano, al secolo Tobia, qual è lo stretto rapporto, strettissimo che lega la committenza alle opere, nel caso di letteratura cortigiana. Lo sappiamo tutti, no? Il signore chiede e il letterato produce. Nel caso di Ferrara c'è una complicazione in più, cioè i signori ferraresi si succedono piuttosto velocemente, e adesso li riprenderemo, perché questa non è nozione che possa essere data per scontata, attraverso una linea dinastica che, non siamo registrati, ma diciamo anche se siamo registrati, la linea dinastica ferraresi è un casino terribile, cioè non passa mai un erede legittimo, mai. E oltre a essere tutti variamente illegittimi, i signori ferraresi, fra inizio del 4 e fine del 4, propugnano sistemi culturali radicalmente differenti, quindi ci sono varie strade che si sono aperte nella cultura ferraresi. Alcune si sono aperte e sviluppate, altre si sono aperte e chiuse subito, e altre non hanno fatto neanche in tempo ad aprirsi. Quindi di questo vi racconterò. Questo è abbastanza nuovo, le cose sono note, però in fila in realtà non le ha mai messe nessuno. Allora, parto da un minimo di storia, non dandola per scontata, ovviamente il signore da cui ha origine tutta questa vicenda, Nicolò III, grande signore Stens, l'unico che regna per un certo numero di anni, perché lui diventa signore nel 93, 1393, Nicolò III ha dieci anni. Ricordatevi questo dato, perché la giovane età dei suoi eredi verrà sempre usata per impedire a Tizio piuttosto che a Caio di prendere il potere. Lui comincia a diventare signore nel 93 e vive fino al 1441. grandissimo uomo di Stato, iniziatore del potere estense nel nord Italia, ma non soltanto, perché a Nicolò III, oltre a aspettare la chiamata di Guarino, come andremo a dire fra poco, se c'è loro sono già in ritardo, Nicolò III è destinatario di una coppia di opere di Nicolò De Bassi, piccolo, letterato, estense, non sicuramente un grande letterato che io ho avuto un'avventura di studiare quando ero appunto molto giovane, ti rifinano da studiare delle cose terribili, Pier Andrea De Bassi gli dedica due opere, più una terza, diciamo due e mezzo, che sono opere in prosa volgare, narrativa, agli anni 30 del 400, nel nord Italia. Allora, mettendo assieme tutte queste cose, è effettivamente incredibile, non ci sono, non c'è niente di questo genere fuori di qui. Queste opere sono opere cortigiane, e sono gli anni 30 del 400, ma Pier Andrea De Bassi le scrive in funzione di una corte e di un signore che non sanno il latino, ma hanno bisogno di sapere determinate cose, perché se no non possono leggere, per esempio il Tesei da Boccacciano, che è una delle opere commentate, e non sanno abbastanza di mitologia. L'altra opera, la più straordinaria delle due, che dovrebbe essere pubblicata fra poco nell'opera Omnia di Boiardo, nella parte che la accompagna, diciamo, la biblioteca di Boiardo, è un romanzo mitologico in prosa dedicato alle fatiche di Ercole, una specie di enorme riassuntone della mitologia Erculea, dedicato non ad Ercole d'Este, guardate le date, cioè siamo 40 anni prima, quindi tutto questo in qualche modo preesiste. Comunque, Nicolo III, il Basse, qual è l'erede di Nicolo III? Ecco qui le cose cominciano a complicarsi moltissimo, il suo erede designato, il suo figlio preferito, dei tanti figli, c'è un detto che qui non riferisco, perché siamo appunto in diretta TV, comunque Nicolo III aveva tanti figli, di qua e di là dal poco, ma si dice. Il suo figlio preferito è Ugo, Ugo è il fratello di Leonello e di Borso, sono ovviamente signori estesi, tutti e tre sono figli illegittimi, sono figli di un'amata, amata amante di Nicolo III, che si chiama Stella de Tolomei, che gli dà tre figli maschi, lui l'ama moltissimo, non la può sposare ovviamente per ragioni dinastiche. Di questi tre figli il suo preferito è erede designato, figlio maggiore, maschio, è appunto Ugo. Cosa succede? Che Ugo si mette con la moglie del padre, non con la mamma sua, ma con la moglie del padre, che è parisina malatesta. Storia molto famosa, perché ce l'ha raccontata d'annunzio, il padre nel 1425 li fa giustiziare per alto tradimento, e in questo modo non solo la storia dei due sfortunati amanti entra nella letteratura italiana a modo di Paolo e Francesca, ma la linea dinastica estensa si spezza tragicamente e non si raddrizzerà più per tutto un secolo, diciamo, non funziona. E questo per quello che riguarda la discendenza. Per quello che riguarda la cultura, a parte in Bassi, a Nicolo III si deve l'arrivo a Ferrara di Guarino. Quindi lui non era uomo colto, lui non era uomo di studi, però ha l'idea appunto di fare venire a Ferrara questo Guarino veronese, c'è un processo di avvicinamento sul quale adesso salto. Comunque nel febbraio del 1430 Guarino arriva a Ferrara ed è precettore di Leonello d'Este. Leonello d'Este è diventato nel frattempo in nuce quello che sarà l'erede designato appunto di Nicolo. Quando Leonello completa la sua formazione, cioè nel 36, Guarino da Ferrara, Guarino da Verona, diventato ferrarese d'adozione, comincia a insegnare allo studium dell'università, dell'università della nostra città, della mia città. 26 gennaio 1441 Nicolo III muore, finalmente potremmo dire dopo 50 anni di regno muore. Leonello va al potere. Ecco, questi anni, i nove anni, perché morirà a sua volta il primo di ottobre del 1450, quindi i nove anni del regno di Leonello, sono i nove anni in cui a Ferrara si apre uno spazio dinastico e culturale che avrebbe potuto essere radicalmente diverso da quello che noi conosciamo, ma veramente profondamente diverso. Leonello è il vero esempio di letterato arrivato al potere, è un principe umanista, l'istruzione che ha ricevuto da Guarino non è semplicemente l'instituzio principis, non è andato a scuola di latino e di greco, si è impregnato di cultura umanistica. Può darsi che così ce lo rappresenti l'apologetica di corte, certo, però quello è il messaggio che lui ha voluto lasciare di sé. Lo vediamo in un'opera molto, molto importante, molto famosa e poco letta, perché è in latino, ovviamente, che è la polizia letteraria nel Decembrio, di Angelo Decembrio, che scrive, non fa in tempo a finirla, durante appunto la vita di Lonello, e anche di questo poi parleremo, comunque scrive questo dialogo umanistico di assai ardua lettura, gli ho dato delle tesi, non è facile, non è facile leggerlo, non è facile tradurlo, ma è un testo fondamentale perché ci fa vedere che cosa era Ferrara, che cosa è stata Ferrara in quei nove anni, di che cosa si parlava, qual era il canone degli auctoris di riferimento. Completamente diverso rispetto a quello che noi conosciamo. cioè una Ferrara simile, vicinissima alla Firenze dei primi anni del potere di Lorenzo. Anche qui, guardate le date, siamo prima, queste cose succedono prima, insomma, una Ferrara rigorosamente appunto umanistica, una Ferrara dedita soltanto a studi filologici e appunto su testi classici, una Ferrara in cui la letteratura volgare non ha nessuno spazio, quindi quell'apertura che c'era stata con il Bassi si chiude, là dove il Signore è un principe umanista, il volgare non c'è, non c'è spazio, non c'è nessun ambito per svilupparsi. Il regno di Leonello, il breve sogno del regno di Leonello, se siamo appunto degli umanisti convinti, io no, preferisco molto quello che è successo nella realtà, ma diciamo il breve sogno del principe umanista al potere, si spezza subito perché il primo ottobre del 50 Leonello muore. Problema degli eredi. Leonello ha un figlio che si chiama Niccolò, Niccolò di Leonello, figlio maschio, a 11 anni, quando muore il padre avrebbe dovuto ovviamente succedergli esattamente come era successo con Niccolò. Altrettanto, chiaramente così, non succede. Si comincia a guardare un po' intorno chi sono gli eredi possibili. Allora, fra i vari figli di Niccolò, appunto, di qua e di là dal Po, ci sono Ercole e Sigismondo. Ercole e Sigismondo sono fratellastri di Leonello, sono eredi designati da Niccolò alla morte di Leonello. Leonello nel testamento, cioè Niccolò nel testamento, lascia scritto che dopo Leonello gli succederanno i fratellastri, appunto, Ercole e Sigismondo, i quali, vedi caso, nel frattempo sono stati mandati a Napoli. Cioè, veramente, il più lontano possibile, è vero, che si istruivano alla corte degli Aragona, ma intanto non stavano per i piedi. Tanto è vero che viene incoronato Signore, come tutti sappiamo, Borso. Allora, Borso d'Este non era mai stato neanche nominato nel testamento di Niccolò. La sua successione è assolutamente illegittima. E questo fatto pesa sugli estensi. Per questo, per esempio, Boiardo scrive due genealogie degli Este. Ma perché la genealogia estense non sta in piedi? Perché non c'è una discendenza legittima neanche per sbaglio. Borso sarà il Signore di cui andremo a parlare, avrà la politica culturale di cui parleremo. Ma mi fermo un attimo sugli effetti della nomina a Signore di Borso. Non appena Borso viene appunto eletto non Duca, ma per ora Signore appunto di Ferrara sarà Duca soltanto nel 71 ma nello stesso anno in cui muore. Il Decembro se ne va subito. Decembro che stava scrivendo la polizia literaria come sua prima risposta prende parte e se ne va. Va a Napoli poi va in Spagna ritorna a Ferrara negli anni 60 sette, otto anni dopo la morte di Leonello ma la polizia literaria non la dedica a un estense non la dedica al Signore al potere non la dedica a Borso ovviamente che si sarebbe visto rappresentare il fratello sotto forma appunto di principe umanista ma la dedica in un manoscritto molto famoso che oggi è il Vaticano latino 1794 la dedica a Pio II quindi a un Papa l'indicazione appunto abbastanza chiara e precisa. Guarino rimane a Ferrara fino alla morte muore nel 1460 ma il suo ruolo non è più quello di consigliere del principe è un intellettuale insegna all'università insomma sarà stato un poveretto come noi fondamentalmente insomma non certamente nel cuore del potere vi porto un esempio al contrario per farvi capire quanto questo passaggio sia stato sconvolgente per nulla naturale Guarino Padre si occupa molto di Plauto e la buona umanista che cosa fa? Fa la castigazio dei testi Plautini cioè la emendazione dei testi di Plauto e cerca fra l'altro di entrare nel merito della complessa questione del canone delle opere Plautine quante sono le commedie quali sono il vero di Plauto eccetera eccetera il figlio di Guarino Veronese Battista Guarino resta Ferrara che cosa gli fanno fare gli estense gli fanno tradurre Plauto volgarizzare Plauto in prosa quindi adesso anche se non avete in mente il saggio di Dionisotto su che cosa significa volgarizzare vi è chiaro che nel 400 tradurre in italiano dal latino è poco meno che un insulto per un umanista cioè proprio una cosa che non sta né in cielo né in terra quindi questo percorso che porta da Leonello a Borso non è un percorso naturale di sviluppo culturale è uno stravolgimento totale della linea culturale della città per noi che siamo abituati ad avere sempre come cartina di tornasole la Firenze Medicea è difficile pensare che un singolo signore una singola linea dinastica che si spezza abbia un effetto così dirompente però Ferrara assolutamente è stato così del resto anche a Firenze se voi pensate prima dopo il 78 prima dopo la congiura dei pazzi non muore Lorenzo è vero muore suo fratello però pensate a quale sconvolgimento c'è nella cultura laurenziana per effetto per così dire di fatti esterni la svolta diciamo di Borso è una svolta fondamentale come sarà fondamentale la svolta impressa da Ercole Ercole vent'anni dopo sarà un signore ancora differente i suoi interessi andranno verso i libri di storia una grandissima passione perché per lui quelli erano gli specula principis degli est e i testi teatrali al sviluppo del teatro ferrarese i vulgarizzamenti Plautini 1486 la rappresentazione dei Menechini e così via torno però a Borso nella linea dinastica non saltiamo direttamente ad Ercole allora il potere di Borso e la cultura di Borso è molto chiara e molto ben definita la cultura di Borso è stata giudicata dai grandi studiosi dell'umanesimo quello vero diciamo con la U maiuscolo come una cultura minore figlia di un Dio minore sicuramente cultura volgare cultura appassionata alle cose di Francia grandissima passione per l'astrologia l'arrivo di Prisciani a Ferrara il salone dei mesi di Schifanoia andiamo poi a vedere gli effetti appunto di questa cultura una cultura che ha prodotto Schifanoia è una cultura d'eccezione è la stessa cultura che ha prodotto l'innamoramento di Orlando per questo Antonia benvenuti prima io poi anche abbastanza abbiamo molto insistito sulla retrodatazione del poema di Boiardo non si può far iniziare il poema di Boiardo sotto un signore estense a cui della produzione cavallerisca non interessa niente non è possibile che sotto il potere di Ercole a un grande feudatario come Boiardo venga in mente di scrivere l'innamoramento di Orlando l'innamoramento di Orlando si colloca nell'età cavallerisca di Ferrara che sta fra il 50 e il 70 cioè si colloca dentro la cultura di Borso fuori non avrebbe nessuno spazio per potersi sviluppare questo discorso che vi sto facendo del passaggio fra la cultura di Lionello e la cultura di Borso si riflette molto bene anche nell'ambito artistico io non ho portato sono stata molto meno diligente non ho portato immagini ma ciascuno se le può andare a vedere insomma se andate a vedere lo studiolo quello che resta dello studiolo di Belfiore perché il palazzo di Belfiore è bruciato la delizia estensa di Belfiore è bruciata nel 600 ma alcune delle rappresentazioni vi contenute sono rimaste questo studiolo era lo studiolo delle muse e il progetto originario era un progetto umanistico è stato poi realizzato perché gli estensi non erano molto ricchi quindi in parte lo hanno realizzato effettivamente sotto Leonello in parte già in epoca di Borso per cui se voi per esempio andate a vedere in Inter l'immagine più famosa che è quella della Calliope di Cosmetura vedete alcuni elementi un po' strani però il progetto è un progetto famosa del 70 a brevio Borso chiede libri dice me ne vogliate mandare scrive Ludovico di Cugno me ne vogliate mandare carico di quanti più libri francisi voi potete cioè quelli della tavola vecchia ricordandovi che ne riceveremo maggiore piacere e contento che di una cittade che noi guadagnassimo quindi da passione veramente per i libri di cavallerina vado velocemente a Ercole Ercole autore diciamo signore importante tanto quanto i fratelli ma ci vado velocemente per ragione di tempo Borso diventa Duca nel 71 nel 61 si era portato avanti aveva disegnato come suo erede Ercole per evitare che di nuovo si riaprisse appunto la querel della successione tornato da Roma con la nomina diciamo l'investitura a Duca misteriosamente ci sono un po' di morte sospette in questa storia già quella di Leonello è stato parecchè perplessità e anche questa di Borso nel 71 torna da Roma si ammala e velocemente muore la questione della successione che doveva essere già chiusa perché ride disegnato era Ercole si chiude in effetti con la proclamazione di Ercole a Duca di Ferrara ma c'erano altre due linee che si potevano aprire intanto Niccolò di Leonello il quale era l'erede del padre quindi è vero che era bambino quando il padre è morto ma a questo punto non lo è più e ancora un'altra linea che si è chiusa è quella di un altro fratellastro che è Alberto d'Este Alberto aveva una sua piccola corte a Ferrara è stato abbastanza studiato Alberto d'Este soprattutto anzi direi soltanto da Stefano Cracolici che ha cercato di individuare quali sono i letterati che ruotavano attorno ad Alberto e che tipo di cultura proponevano ecco anche qui due linee dinastiche che si sono spezzate se si fossero sviluppate ecco appunto che la storia non si fa coi sé avrebbero prodotto certamente di nuovo una cultura differente a Ferrara piuttosto differente a chiudere questa storia a chiudere questa breve storia dinastica diciamo il 21 luglio del 76 nasce Alfonso finalmente re del legittimo e maschio di Ercole sarà ovviamente l'Alfonso che tutti conosciamo insomma come dedicatario del dedicatario insomma come signore referente del furioso allora morale di questo breve excursus non esiste un solo modello ferrarese non soltanto ferrare diversa da Firenze e questo si spera che sia acquisita ma esistono tante culture ferraresi differenti alcune sviluppate alcune soltanto in nucio insomma tutte interessanti e sicuramente appunto tutte importanti e tutte con un complesso rapporto con l'antico e con il classico che era appunto su cui volevo chiudere arrivo all'esempio ma che vi volevo portare che mi sa che vi lascerò invece per ma si sono già stufati tutti ma no basta contestualizzo cos'è il testo di cui vi vado a parlare perché insomma è ovvio che le pastorale non sono innamoramento di Orlando quindi insomma hanno bisogno di un pochino di contestualizzazione parto dalla cosa assolutamente più strana e che ci spinge poi a riflettere su che cosa voglia dire classico e cosa voglia dire confrontarsi con l'antico perché Boiardo come forse saprete scrive due serie di eglogue la prima in latino nel 1463 1464 in latino Boiardo è ancora giovane è nato nel 41 non giovanissimo per l'epoca ovviamente non è un bambino ma pastorali riflettono tutta la cultura che gli arriva dagli uomini che erano gli uomini della polizia letteraria erano gli uomini del circolo di Guarino quindi lo zio Tito Vespasiano Strozzi il nonno Feltrino Boiardo Gaspari Tribraco che non era né nonno né zio ma faceva parte di quel giro tutti i poeti solo latini tutti i poeti umanisti e Boiardo da ultimo buon ultimo direi si inserisce scrive dieci pastorali a latini che sono stati editi e studiati da Stefano Carrai e che rappresentano l'ultimo frutto di un'arcadia ferrarese una piccola arcadia diciamo ferrarese che nel momento in cui Boiardo scrive i pastorali è già finita cioè la storia l'ha già sostanzialmente travolta ma quelli sono come dire l'ultimo appendice di quella cultura dopodiché passano vent'anni vent'anni in cui Boiardo come dire fa parecchie cose scrive il canzoniere scrive il poema scrive i volgarizzamenti per Ercole su Ercole mi sono fermata poco ma è la grande stagione dei volgarizzamenti estensi insomma quindi è piuttosto importante come si suono dire finalmente arriviamo all'inverno dell'82 83 84 l'inverno della guerra di Ferrara Ferrara è in guerra contro Venezia la situazione è assolutamente disperata per la città che aspetta e anche qui mi faceva ridere ieri sentire appunto Tobia aspetta Alfonso di Calabria perché i fili della storia e i fili della letteratura si intrecciano tantissimo nell'attesa di Alfonso di Calabria che arriverà a soccorrere Ercole d'Esta Ercole malato insomma diciamo che la sfortuna si abbatte sicuramente su Ferrara Boiardo in quell'inverno mette assieme una siloge bucolica dieci testi composti secondo me tutti sostanzialmente in quell'inverno con qualche dubbio su un paio di testi ma beh beh questo lo vedrete poi nell'edizione diciamo sicuramente il progetto di libro nasce in quel momento nello stesso periodo Boiardo manda in stampa i primi due libri dell'innamoramento e questo mi induce a un'altra riflessione cioè il rapporto che gli scrittori del 400 hanno la percezione del rapporto che hanno fra letteratura e realtà siamo in una città sediata nel pieno dell'inverno ferrarese che insomma non è da ridere come si suono dire la città in condizioni spaventose che cosa fa Boiardo fa due libri che tipo di risposta fa manda stampa due libri è convinto evidente manda stampa no manda stampa l'innamoramento e allestisce la siloge per Alfonso di Calabria e quindi convinto evidentemente che i libri continuino di più degli uomini e soprattutto durino di più degli uomini siano più forti insomma degli uomini secondo tema parte quello appunto del rapporto fra letteratura e storia perché una seconda siloge e perché in un'altra lingua domanda se l'è già posta anche Carraia sono già posti altri mia risposta sarà un pochino diversa perché effettivamente molto curioso non ce n'è altri esempi di questo genere perché due volte a distanza di vent'anni ma perché in quei vent'anni tutto è ricominciato vi ricordate avrete immagino letto un sangio di Sant'Agata che si chiama Nascere due volte Sant'Agata estremizza un po' però dice una cosa molto vera cioè l'umanesimo non è l'umanesimo esclusivamente latino non è un'accidentale cesura in un sviluppo lineare non è che dopo Petrarca c'è giusto dei conti in mezzo non c'è nulla dopo Petrarca c'è Boiardo in mezzo no in mezzo c'è tutto un mondo enorme con il quale tutti gli autori del Quattrocento si confrontano cioè il famoso canone degli autores va definito un'altra volta va definito di nuovo e deve includere gli autori volgari a fianco degli autori classici si deve trovare un altro equilibrio sostanzialmente nel sistema che è un equilibrio diverso da quello petrarchesco sono sempre antiche e moderne carte però sono costruite diversamente si mescolano le antiche e le moderne carte e ne viene fuori un prodotto differente in questo caso le eroghe di Boiardo funzionano benissimo perché testi bucolici significa proprio testi che si confrontano con la tradizione classica per forza ovviamente indiscutibile ricordate che Boiardo non sa o sa pochissimo il greco quindi gli digli teocritei ce li possiamo risparmiare se non proprio come ecchi lontani non come presenze testuali reali quindi i suoi dieci testi volgari giocano il rapporto con la letteratura latina principe ovviamente quindi Virgilio Calpurnio Nimesiano eccetera la letteratura latina umanistica un famoso cenacolo ferrarese il cenacolo bucolico ferrarese quindi il tribraco il nonno lo zio insomma tutto l'allegra con bricola che abbiamo visto costituiscono sicuramente un termine di riferimento e poi la letteratura volgare lirica allora la mescolanza di questi registri crea come ha detto De Robertis in un famosissimo saggio che è intitolato molto effetto l'egloga volgare come segno di contraddizione cosa voleva dire in questo contraddizione era l'addensarsi sommarsi di addendi che assieme non stanno che stanno assieme con grande difficoltà i risultati di questa operazione diciamo che gli addendi cercano di fondersi a volte si fondono bene a volte no il sistema ma riesce e non riesce vi porto appunto questa scheggia questo frammento che guardo velocemente con voi i procedimenti bene o male sono abbastanza note perché sono stati studiati tanto per l'innamoramento e l'uso appunto bizzarro che Boiardo fa delle fonti classiche dell'innamoramento qui è più complesso perché il codice di riferimento è un codice rigorosamente classicista ho scelto l'inizio della prima egloga perché è la dichiarazione di intenti ovviamente del testo probabilmente è l'ultima ad essere composta come al solito però certamente è la bucolica d'apertura insomma quindi così ha voluto iniziare Boiardo il testo non è bellissimo ma questo forse non è significativo lo leggo con voi poi non vi leggo tutte le fonti qualcuna l'ho messa sotto specie quelle latine siamo all'inizio siamo in questa Arcadia ferrarese che si collocherà molto precisamente proprio a Ferrara cioè siamo proprio lì un pastore canta si chiama Titiro ovviamente a tutti viene in mente che sia la prima virgiliana con la quale questa egloga ha dei rapporti molto complicati su cui in questo momento non mi fermo Titiro canta un suo lamento disperato che scorriamo insieme velocemente ne vediamo gli addendi e come si combinano la luce che rapporta il nuovo giorno orisce lampeggiando in quel colore che fa l'aria vermiglia ed è oro intorno fuori della mandra orisce ogni pastore e con la bianca grege e con l'armento pasce per l'erbe in loro oscido liquore il testo è il testo critico nuovo non è il testo mingato ed io mi schimpi angendo mi lamento nella ripa selvangia al crudo sasso e spargo in darne me sospiri al vento chiedendo al cielo aiuto ormai son l'asso però destino insinché dura il spirito a tenere giù lacrimando il viso basso verde ginepro ombroso folto ed irto ispi di prumi ma voi faccio palese il mio dolore e a te un dente mirto quel mio fiorito dolce alma paese nuovo mena la noi nuovo liceo dove pana cantare spesso discese sotto l'ungion dell'animal nemeo fra il scuro iato e l'una e l'altra sanna quasi è già preda e pasto di quel reo non è facilissimo prima lettura però tenendolo sott'occhio si vede abbastanza bene come funziona allora è molto ambigo l'apertura di questo testo nel senso che questo pastore che io vi dico già è titiro tecnico già che è titiro tito vespasiano strozzi zio appunto di boiardo si lamenta ovviamente il pastore lo fa abbastanza abitualmente ma il suo lamento all'inizio è un lamento amoroso se voi lo leggete sino al verso 15 non c'è una sola parola che ci fa capire che ci muoviamo in un contesto politico storico che l'orrore che ti tiro a prova non è dovuto all'abbandono di fillide o nel caso dell'abbandono di alessi nel caso che appunto le preferenze sessuali fossero diverse ma è dovuto a ragione appunto di carattere storico politico altra cosa da notare è l'alba e l'alba è alla fine la luce che la porta il nove giorno eccetera eccetera e l'alba e l'aurora alla fine del testo sarà il tramonto uno dice vabbè banale no non tanto perché questo sviluppo narrativo cioè che passi del tempo in Arcadia che si sviluppi un giorno non è così frequente perché è vero che le gloghe virgiliane finiscono sempre con la sera ma non iniziano con la mattina l'ora topica dell'egologa è il meriggio non è che Mallarmese lo fosse inventato per caso è il tardopomeriggio e poi appunto arriva la sera come funziona il sistema delle fonti di quelle che una volta si chiamavano fonti l'apertura del testo la prima terzina è esclusivamente lirica non declina altre fonti che non siano fonti liriche ve le ho messe sotto vi segnalo in particolare la seconda io ho usato sia qui come poi farò nel commento gli amorum libri come filtro della tradizione lirica cioè io cito Petrarca soltanto là dove non soccorrono gli amorum libri se la fonte petrarchesca è filtrata attraverso il canzoniere secondo me vale la pena di citare solo il canzoniere guardate la seconda immagine degli amorum famosissimo è questo canto il quindicesimo del primo libro è un canto scomperativus è un canto a cui la bellezza di Antonia viene paragonata a svariati fenomeni della natura questo canto si scorre attraverso tutte le ecloghe vulgari e ne fornisce il leitmotiv ritorno in continuazione saccheggiato quasi parola per parola quindi la prima parte è tutta lirica con appunto fonti molto precise assolutamente indiscutibili la seconda è bucolica quindi nella successione delle fonti Boiarda in prima posizione mette i testi lirici suoi e Petrarca dietro di lui seconda fonte è bucolica ma come vedete non è Virgilio Virgilio è molto presente ma non è il primo autore che compare il primo autore che compare è Calpurnio e se voi leggete la citazione è precisa perché si vuole alludere a una pluralità di fonti latine non cito Titilo, Tupatulè eccetera ma vado a citare un autore appunto un pochino particolare non ve lo sto a leggere perché andrebbe anche tradotto perché non si legge a prima vista scorro un pochino e vado all'io meschin piangendo mi lamento allora quindi terza terzina allora un pastore diciamo un contesto sereno esterno e invece un pastore che desolatamente commenta la sua condizione personale con dispiacere con dolore ovviamente allude a Titilo Tupatulè Cubans eccetera subtegno e Fagi quindi la prima egloga di Virgilio in realtà secondo me qui dietro ci sono altri testi di riferimento oltre alla prima virgiliana e sono testi volgari sono testi famosissimi della tradizione volgare dov'è che si contrappone un io sconsolato a una natura splendente ovviamente in Petrarca qui direi proprio in Petrarca nell'archetipo Zefiro torna il bel tempo rimena ma primavera per me pur non è mai Petrarca cioè nelle canzoni di Petrarca l'amante è solo la sua condizione è disforica come Contini ci ha insegnato rispetto appunto alla condizione naturale per me l'asso torna nei più gravi sospiri siamo sempre nel 310 appunto del canzoniero in questi stessi versi a fianco di Petrarca vengono fuori i primi dantismi ecco anche Dante è una presenza fortissima nelle pastorale di Boiardo Dante offre a Boiardo il lessico le parole per dirlo il lessico per parlare di politica e di storia è logico da dove poteva venire però vedrete appunto vedendo il commento che sono presenze veramente notevoli qui uno è molto esibito c'è un crudo sasso che ovviamente viene da paradiso 11106 nel crudo sasso intra Tevere Arno ma c'è anche un bizzarro selvaggia subito prima e che sta proprio nella posizione di esta selva selvaggia quindi non è lì a caso diciamo anche quella appunto è una piccola marca siamo sempre in questa zona in cui non si sa di che cosa si sta parlando ma si sa che Titilo si dispera e si chiude questo pezzo che è una vera disperata insomma tecnicamente è una vera disperata si chiude su un topos molto noto cioè l'invocazione agli elementi della natura scontatemi alberi fronde querce perché lei non mi ascolta in generale il concetto è quello qui gli archetipi culturali modelli gli auctor si intrecciano perché abbiamo il lamento di Coridone che appunto è disperato perché il bella Lessi non lo ama siamo alla seconda delle bucoliche ma abbiamo e credo di avervi dato anche sì eccolo qui il rimando e si rivolge appunto alla natura perché gli sia testimone in qualche modo lo aiuti ma moltissimi testi volgari sviluppano lo stesso topos Chiare e Fresche e Dolci Acque Giusto dei Conti Udite Monte Alpestri ma Boiardo infinite volte anche nel poema che questo è un dato su cui non mi fermo qui perché non è il caso ma Boiardo usa molto del poema questa è l'unica opera volgare sicuramente successiva al poema è importante ovviamente perché non può essere passato in vano un'esperienza appunto di questo genere salto va bene questo non mi importa allora arriviamo dal verso 16 in poi e qui chiudo allora a parte finale di questo tratto finalmente riusciamo a capire ma perché questo titilo si tormenta e ci tormenta così tanto ci tormenta così perché questo orrendo leone l'animal nemeo ha salito il paese questo fiorito dolce arno paese qui le fonti sono volgari nuovo mena la noi nuovo liceo qui le fonti ovviamente sono classiche si intrecciano di nuovo un'altra volta è stato assalito da questo leone fuori dal velame pastorale lo strazio è provocato dall'offensiva del leone veneziano ovviamente contro la terra ferrarese questo punto segna anche un contatto molto importante tra questa prima egloga volgare è la prima egloga dei pastorali latini perché nel sistema boiardesco i tre macroteste se possiamo ancora chiamarle così il suo latino il suo volgare e l'ipotesto virgiliano ruotano come modelli si intrecciano continuamente insomma e nella prima dei pastorali nel primo carme latino c'è ancora protagonista lo strozzi e anche lì soffiano venti di guerra anche lì è arrivata la guerra a sconvolgere l'arcadia ferrarese ma nel caso dei pastorali a questa guerra è lontana questa guerra è lontana è una guerra che ha spinto panna ad abbandonare l'arcadia e a rifugiarsi a Ferrara quindi Ferrara è la terra felice in cui l'arcadia può rinascere perché a Ferrara la guerra non c'è chiudo con un riferimento al leone il leone ovviamente è il leone all'atto di Venezia per forza ma è il leone che Ercole uccide nelle fatiche di Ercole e non è un caso nel senso che questa mitologia Erculea è sotterranea a tutto l'immaginario estense è fortissima la sua presenza nell'innamoramento di Orlando questa è una cosa che ho studiato io ma poi è stata ripresa insomma sviluppata benissimo nel commento di Antonio al poema cioè le venture di Ercole scorrono come ipotesto nelle venture di Orlando lui compie le stesse imprese che compie l'eroe quindi dopo il 1471 per cui siamo dopo sicuramente la nomina diciamo l'elezione l'individuazione di Ercole come signore il mito di Ercole diventa un mito fondativo a Ferrara diventa un mito fondativo ed è il vero equivalente del mito del Lauro in ambito medicio quindi tutte le volte in cui c'è un riferimento a Ercole ad una delle sue avventure va decodificato immediatamente in prospettiva politica come l'alloro laurenziano non è Laura ma è Lorenzo esattamente in maniera parallela basta mi fermerei grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti